Un grosso frammento di muro dello stadio di Antonino Pio a Pozzuoli lo scorso sabato si è staccato rovinosamente dal fronte meridionale della struttura, finendo alle pendici della collina Starza e rischiando di colpire il treno della linea cumana, in quel momento fermo presso la vicina stazione di Cantieri. L'opera, risalente alla metà del II secolo d.C., era stata fatta realizzare dall'imperatore Antonino Pio per celebrare i giochi Eusebea, in rispetto dello spirito filellenico del suo predecessore Adriano, morto a Baia nel 138 d.C. Stando ai primi accertamenti, il masso si sarebbe staccato dalla parete a seguito delle infiltrazioni d'acqua che da tempo minacciano la stabilità dell'intera collina. Del resto, rilevanti sarebbero state anche le continue vibrazioni a cui è soggetta la zona a causa del frequente passaggio dei convogli ferroviari. Un episodio che accende i riflettori sull'urgente problema della manutenzione dei siti archeologici, che, come denuncia anche Luigi Esposito, presidente dell'Associazione Albergatori Campi Flegrei, sta soggettando il patrimonio storico di Pozzuoli alla medesima indecorosa situazione che attanaglia gli scavi di Pompei. Da anni, infatti, precarietà e impraticabilità sono diventate le parole d'ordine per meravigliosi reperti e siti archeologici putiolani, quali la volta romana dell'Arco Felice, nascosta da una rete metallica che ne ostacola lo sgretolamento, e i sotterranei dell'Anfiteatro Flavio, ormai resi inaccessibili dai continui allagamenti e dalla conseguente formazione di uno spesso strato di melma. Del resto, l'assoluta necessità di un intervento immediato era stata accolta dalla direzione regionale del MIBAC, che aveva stilato un progetto di recupero degli spalti denominato l'Anfiteatro Flavio e il territorio di contesto, clamorosamente bocciato dalla regione Campania, nonostante lo stanziamento di 36 milioni di euro per la realizzazione di una serie di proposte progettuali. L'idea non è stata accolta per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal regolamento per l'accesso al finanziamento. Su un minimo di 50 su 85 punti, il progetto putiolano ne ha totalizzati appena 40. Numeri a parte, resta il fatto che insieme a una porzione di parete, sabato scorso è drammaticamente crollato un altro pezzo del patrimonio culturale della città, ferita ancora una volta in ciò che ha di più caro, la sua antichissima storia.